The Dark Side of the Moon, il geniale disco dei Pink Floyd, compie 40 anni. Sul Fatto di Lunedì vi raccontiamo la storia, gli aneddoti e soprattutto il ruolo di questo disco nella storia rock internazionale. Sul Fatto di Lunedì 21 gennaio vi parleremo di derivati, vi parleremo di Euribor. Sono parole che sembrano astratte, che noi pronunciamo magari come degli slogan senza comprenderne fino in fondo il significato. Noi vi racconteremo cosa significano queste parole concretamente nella nostra vita, perché siamo seduti letteralmente su una bomba orologeria. Gli enti locali italiani sono indebitati, hanno in pancia 160 miliardi di titoli tossici, di derivati. Questo può voler dire che siamo l'unico paese d'Europa che ha questa massa di derivati, comprati da soggetti pubblici, e può portarci veramente alla bancarotta, quella vera. Ecco, noi vi avremo dei documenti inediti, documenti che vi faranno capire come qualcuno sa, qualcuno sa il pericolo su cui siamo seduti e molti non fanno nulla, sia per quanto riguarda i derivati, sia per quanto riguarda dell'Euribor, documenti che non ha mai visto nessuno. E poi cercheremo di raccontarvi anche cosa vogliono dire i derivati concretamente, perché sono stati sottoscritti, sono stati sottoscritti perché le regioni, i comuni non hanno più un euro di trasferimento dal governo, e allora devono cercare di industriarsi come possono, e allora spesso capita che sindaci, che presidenti di regioni firmano cose che neanche sanno cosa vogliono dire. E magari qualcuno firma anche sapendo che poi il conto lo pagherà il prossimo sindaco, il prossimo presidente della regione, e così il costo di questo sarà pagato in futuro. Ecco, noi ci siamo ipotecati il futuro. Ecco, e questo non è soltanto un discorso contabile, un discorso di denaro, questo vuol dire che tutto questo denaro non potrà essere usato per altro, non potrà essere usato per ospedali, non potrà essere usato per scuole, per università. Noi vi racconteremo questo senza tacervi niente, finalmente. Ci vediamo in edicola.